Ma, ehi! Chi c'è laggiù? Ma siete voi? Ma siete voi? Ciao, oggi io sono FrancinaZerotto, oggi siamo ritornati su Minecraft, ma oggi con la nuova versione di Minecraft, che in verità è un update ancora, purtroppo. Ancora non hanno aggiustato bene le caverne, mamma mia, le devono aggiustare queste caverne, perché ancora non le hanno fatte? Si devono sbrigare! Eh ragazzi, si devono sbrigare, non c'è niente altro da fare. Abbiamo un nuovo materiale che è il copper, il rame, con cui però nel tempo si rovina fino a diventare verde. Qui abbiamo, forse la cosa più complicata da spiegare, abbiamo i blocchi di ametista. Ci sono due blocchi di ametista. Questi qua, che sono normali, e questi qua, che hanno una spaccatura al centro. Cosa significa che hanno una spaccatura al centro? Significa che questi blocchi qua, in questi blocchi qua, ma soltanto in questi che sto puntando, possono crescere le ametiste, che sono queste qui. Questi qua, le ametiste non crescono in questo blocco, ma se ovviamente le piazzo, crescono, che si è chiaro subito. 12 cammini sopra fanno rumore. Ok, però sentite questo bellissimo rumore? Tutti zitti, tutti zitti? zitti? Ah no! Zitti, zitti? Buonissimo, bellissimo, bellissimo! Ovviamente funziona anche con questo. Puro se mi spaccate a far rumore. Bellissimo, bellissimo, bellissimo che sta rumore. Ok, qui abbiamo il vetro oscurante. Questo vetro è un vetro che l'apparenza potrebbe essere normale. Questo vetro si fa con le ametiste, è un vetro oscurante. Cioè, come funziona? Così funziona? È buio, buio pesto. Io so che fuori c'è il sole, c'è la luce, ma qui dentro è buio, perché questo è un vetro oscurante e funziona in questo modo, oscura, appunto, le cose. Le chiediamo. Le candele. Dobbiamo prendere un acciarino. Un acciarino, eccolo qui. Accendiamo le candele. Si dovrebbe vedere il fuoco, ma essendo una... Cioè, io ho visto anche in altri youtuber che hanno fatto questa cosa, si vedeva ovviamente il... quello che... il fuoco, però... il fuoccarello. Però evidentemente da me è un po'... Da me non si vede, però ci sta che non si vede, ma... E' comunque un update, quindi non funziona tanto bene, ci sono dei buggy. Questo qui è il... la tira fulmine, come si chiama? Mi viene il nome, la tira fulmine? Sì, ha il tira fulmine? Penso. Vabbè, noi lo chiamiamo tira fulmine. Attenzione! Questo attira fulmine non è che attira tutti i fulmine che vengono paraflesciati nel vostro mondo di Minecraft, ma attira soltanto i fulmini entro il chunk dove è stato posizionato. Quindi non attira i fulmini oltre questo blocco, no, oltre questo blocco, ok? Tengo a dire che quello che ho detto su... entro questo blocco non è un vero chunk, che sia chiaro, perché magari qualcuno dice, ma quello non è un vero chunk. Abbiamo quasi finito, ma dobbiamo passare... perché c'è questo? Ci dovrebbe essere un'altra cosa qui. Ci dovrebbe essere il sacchetto, facciamo finta che... Quindi togliamo tutto, togliamo tutto, però prendo questo... Ok, credo che intuite che nel sacchetto ci stanno un massimo di 64 blocchi, che è uno stack. Ma ci sono altri due casi diversi, quindi vi faccio un esempio. Se io metto le cose qui dentro, 64 blocchi qui dentro il sacchetto si riempie. Però poi ci sono casi particolari, che possono essere, per esempio, le Ender Pearl. Ci sono appunto degli stack di certi tipi di blocchi, che non arrivano a 64, ma arrivano a 16 blocchi, e quindi si riempie con 16 blocchi, con questi tipi di stack. Se addirittura il blocco che vogliamo mettere dentro il sacchetto non ha uno stack, ma si deve mettere ogni blocco uguale in una casella diversa, Allora, il sacchetto si riempierà soltanto con un oggetto. Poi ci sono altri due tipi diversi, nuovi, di roccia, che sono il tuffo e la calce. Qui la chiama calcite. Allora, questi due blocchi si vedono prima di vedere questi blocchi qua, perché questi blocchi più quelli là rappresentano un intero bioma. Però lì ho un'altra cosa che poi farò magari vedere avanti. Bene ragazzi, io posso salutarvi anche qui e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!